Per il campionato d'eccellenza la capolista Montalto supera di misura con un gol di Piemontese la Virtus Soverato nell'anticipo di sabato e difende così il primato dall'attacco del Guardavalle che con Taurino al terzo minuto di recupero sui cinque concessi dal direttore di gara Scaramuzzino fa esplodere il Nicola Coscia. Vince il Roccella che ne fa cinque al Brancaleone e si piazza al terzo posto solitario in attesa del recupero di Sersale Isola Caporizzuto rinviata in quanto a Sersale ieri è scesa in campo la nebbia. Tutta da rivedere la gioiesse che viene superata dalla Bovalinese ma vediamo le azioni più salienti dell'incontro Guardavalle Rende. Per i Colossi gli ospiti al dodicesimo con Pasqua che crossa e Barillaro risponde. Al quindicesimo ci prova Amoruso, la palla finisce di poco fuori. Al ventiseiesimo buona la parata di Ferraro sul tocco di Coluccio. Alla mezz'ora gli ospiti protestano per questo atterramento di Gallo ad opera di Contino, l'attaccante viene ammonito per simulazione. Al quarantunesimo il tiro di Vilitano viene parato dall'estremo difensore ospite. Nella ripressa ospiti pericolosi, il colpo di testa di De Luca finisce sul palo. Al ventiquattresimo è l'attaccante marziano a sbagliare clamorosamente da buona posizione. Due minuti più tardi papera di Ferraro che si fa sfuggire la sfera, peccato che gli attaccanti locali dormono. Al novantatresimo Creniti mette sul primo palo, Taurino anticipa tutti e gonfia la rete per l'esultanza di tutto lo stadio. Sentiamo le valutazioni di Surace e Ciparrone. Oggi il nostro problema è stato che all'ultimo minuto abbiamo avuto delle defezioni importanti come Dorato e come lo stesso Creniti e qualche altro giocatore. Ora senza togliere nulla a chi ha giocato, è chiaro che era la prima volta che giocavano questo tipo di formazione. E soprattutto in base alle caratteristiche dell'Orende abbiamo avuto dei giocatori, ci servivano dei giocatori rapidi. E infatti dal sessantesimo in poi, quando è entrato Creniti, è entrato Tedesco e poi è entrato Taurino, la musica è cambiata e abbiamo avuto 3-4 occasioni clamorose per segnare. Loro sono un'ottima squadra, forse sono una della squadra candidata a vincere il campionato, non dobbiamo dimenticarlo, per cui abbiamo concesso qualche occasione, una nel primo e una nel secondo tempo. Però alla fine abbiamo spinto, abbiamo cercato il risultato e sinceramente ero sicuro con l'entrata di Taurino che avesse segnato, perché questo è un attaccante esperto e ha cercato il gol, ha voluto il gol. Lui e Creniti e Tedesco hanno cambiato volto alla partita. Senza dubbio, soprattutto l'entrata di Creniti ha cambiato volto, le assenze forse di Dorato, per quanto Marziano ha giocato bene, l'assenza di Dorato forse l'avete pagata un po' di più. Indubbiamente Creniti ha avuto un problema intestinale stanotte, per cui non ha iniziato dall'inizio. Creniti non lo scopro io, Creniti è un giocatore che in questa categoria vince le partite da solo. Dorato, ormai siamo abituati al modulo di Dorato, anche se Milos Marziano ha giocato bene. Sono due giocatori diversi, uno fa il reparto da solo, l'altro ha bisogno di gente che si inserisce. Infatti con l'entrata sia di Creniti a sinistra che a destra di Tedesco abbiamo cambiato modulo di gioco, anche se ho visto l'impegno del ragazzo Dario Menghini che è stato all'esordio. È stata una partita sofferta, però è stata una partita che dal sessantessimo in poi l'abbiamo voluta. Direttore, il campionato ancora è lungo, però è giusto sognare. Il guardavalle anti-Montalto che rimane ancora a due punti è l'unica squadra che può infastidire la squadra regina, la squadra cosentina. Allo stato attuale siamo noi l'anti-Montalto, io non so gli altri risultati, però ad oggi è chiaro che già dalla prossima settimana non abbiamo delle partite difficili, andiamo avanti. Noi dobbiamo solo guardare a noi stessi e migliorare sia per guardarci all'obiettivo che sono i play-off e poi se naturalmente dovremmo essere lì sopra noi non ci tireremo indietro. Mister Ciparrone, quando sembrava poter portare un punto a Rende in un campo difficile come quello di Guardavalle al terzo minuto di recupero è arrivata la doccia fredda del gol di Taurino. Peccato perché la sua squadra aveva giocato bene durante i 90 minuti. Purtroppo questo è un ritornello che si ripete già da parecchio tempo. Giochiamo bene, teniamo bene il campo, cerchiamo di sfruttare situazioni importanti, però poi alla fine, alla minima disattenzione, facciamo succedere la frittata. Purtroppo c'è il diavolo che ci sta mettendo sempre lo zambino. Onestamente la squadra ha giocato, avevamo parecchie defezioni, però la squadra ha fatto la partita, ha creato, è stata propositiva. Poi il primo tempo è un episodio talmente clamoroso che non può passare inosservato perché l'arbitro non se la sente di decretare, di fischiare, perché quantomeno il portiere andava espulso perché era l'ultimo uomo. Poi sognava vedere se era in aria o era fuori aria, però penso che l'arbitro bisognava intervenire perché il portiere la palla non l'ha presa, ha dato un calcio d'ango quando la palla ha preso il nostro giocatore. Alla fine gli albitri fanno la differenza, i valori si equivalgono in campo, però alla fine emergono sempre gli albitri che sono loro i protagonisti. Mister, la sua squadra ci è sembrata in forma, ha una bella formazione, una squadra che sicuramente si può piazzare tra le prime cinque, una squadra che può dare fastidio a tutti quanti. No, bisogna essere più cinici, bisogna essere più concreti. Noi abbiamo questo handicap che creiamo tanto e raccogliamo poco, quindi già la domenica prossima in casa, avendo la prima della classe, dobbiamo dar fondo a tutte le nostre riserve, dobbiamo fare la partita giusta perché è giusto che giochiamo per vincere, perché è arrivato il momento che bisogna anche vincere, perché essere belli piace, però bisogna mettere punti in cascina perché il campionato è entrato nel vivo e poi i punti che perdi per strada, poi alla fine li rimpianci dopo. Quindi dobbiamo essere bravi, dobbiamo cercare di raccogliere tutte le energie, cercheremo di recuperare gli infortunati in settimana, perché domenica dobbiamo fare una partita importante. La società sicuramente non si tirerà indietro, il mister darà le segnalazioni giuste, ci sembra che dal punto di vista dei fuori quota, anche se c'era qualche assenza oggi degli under, bisogna fare qualcosa. Ma noi non abbiamo l'imbellenza, noi non dobbiamo vincere niente. Questa è una squadra nata dalle genere dell'anno scorso, l'abbiamo costruita piano piano, sappiamo che la nostra dimensione qual è, cerchiamo di migliorare di partita in partita, cercando di migliorarci di domenica in domenica. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo e se c'è l'opportunità di puntare al quinto posto. Questi sono gli obiettivi alla vigilia e noi cercheremo di tenerli ben presenti, perché questo è il nostro obiettivo. Poi gli under devono crescere pian piano, altrimenti non erano under, se erano già giocatori non si chiamavano under, quindi devono crescere piano piano. Abbiamo un buon gruppo, un fiorente settore giovanile, dobbiamo far crescere il prodotto locale.